Dagli stessi principi di Seurat riparte Paul Signac, pittore autodidatta che si avvia la pittura dopo aver visto una mostra di Monet nel 1880 che colpito dalla potenzialità della pittura en plein air decide di recarsi a Danier dove avviene l'incontro della sua vita perché conoscerà Seurat e appena conosce Seurat decide di imboccare la strada di quello che viene definito l'impressionismo scientifico. Tutti elementi, quelli dell'impressionismo scientifico che sono perfettamente visibili in questo dipinto, la sala da pranzo opus 152 del Collernille Museum di Otterlo che probabilmente è l'opera più impegnativa e anche quella più significativa del primo periodo quantist di Paul Signac. Primo periodo perché come vedete io vi ho scritto dall'approccio scientifico al ritorno emozionale in questa lezione vedremo che anche il divisionismo prende vie diverse, vie diverse in Francia appunto Signac deformerà in qualche modo l'insegnamento del suo maestro Seurat e poi in Italia prenderà vie ancora diverse. Nella sala da pranzo noi vediamo la rappresentazione di una scena di intimità di quotidianità borghese, ci aspetteremo quindi una sorta di una certa vitalità anche perché i personaggi rappresentati erano personaggi cari all'artista, la persona in primo piano è il nonno, la signora che beve dalla tazza è la mamma dell'artista e invece abbiamo una raffigurazione che si interessa dell'equilibrio formale e della solidità dei corpi ma dove c'è un disinteresse completo per la naturalezza, per la spontaneità del quadro generale. Noi vediamo una sorta di ribaltamento sul piano del tavolo, vediamo delle ombre troppo allungate per quanto invece c'è un'attenzione maniacale all'uso del colore, quindi queste sono ombre colorate secondo i dettami di Chevrel evidentemente. Quello che è evidente è che nella nuova ricerca Pointe East questa spontaneità, la naturalezza, la vitalità che erano tipiche dell'impressionismo non sono ritenuti elementi determinanti. Quello che invece è importante appunto è lo studio del colore. Questo accade all'inizio della fase Pointe East di Signac perché nel 1891 Sorà muore prematuramente, Signac ha una sorta di crisi, non sa bene quale strada imboccare e comincia a dipingere un plein air ma soprattutto a dipingere appunto paesaggi. Passa dalla rappresentazione umana o comunque rappresentazioni abitate a rappresentazioni soprattutto del paesaggio. Queste rappresentazioni tenderanno ad inclinare verso una deformazione espressiva. Se noi per esempio guardiamo questo dipinto di Signac, questo ci racconta del suo viaggio nel Midi. Signac arriva nel 1892 a Saint-Tropez sul suo yacht che tra l'altro curiosamente si chiamava Olympia, si innamora di questi luoghi e della luce del Midi, si stabilisce nel Midi, sarà anche molto importante perché inviterà, ospiterà tutta una serie di artisti, Cross, Matisse, Drenne, Marchais, tutti artisti che mescolano insieme diciamo il punto di vista del pointillismo con quello del simbolismo dei Nabi o con quello espressionista dei Fouves, quindi ci mostra ancora una volta una contaminazione, questa tendenza a mescolare ricerche e intuizioni diverse. Infatti il dipinto che vi ho messo accanto è un dipinto di Harry Matisse del 1904 che prende il nome di lusso, calma e volutà dal celebre verso che si trova all'interno di Invito al Viaggio di Charles Baudelaire che vi ho segnalato. Cosa cambia in questa pittura di Signac rispetto alle prime indicazioni di Seurat? Il puntinismo non è più fatto per punti piccoli che quindi hanno la capacità di fondersi nella retina da una certa distanza, questi punti diventano tratti sempre più corposi e soprattutto sono tratti direzionati che accompagnano le forme che rappresentano e questo ovviamente spinge verso una deformazione espressiva che è accompagnata anche da un uso del colore sempre più acceso, sempre più contrastato, sempre meno naturalistico. Da questo punto di vista si spinge verso l'espressionismo e infatti come vedete Harry Matisse riparte da questa sorta di pointillismo modificato che Signac modifica dall'insegnamento di Seurat. Come abbiamo detto il divisionismo prende strade diverse, quindi in Francia ritorneremo, siamo partiti da un'idea di rappresentazione scientifica, invece si ritorna verso una rappresentazione più, come posso dire, più emozionale, più patetica. In Italia per esempio negli anni 90 si sviluppa un movimento che è quello del divisionismo molto interessante, molto innovativo, che parte dalle stesse basi del pointillismo ma che ha origini ed esiti completamente indipendenti rispetto all'arte francese. Il divisionismo comincia, diciamo, fa il suo debutto nel 1891 alla triennale di Milano, consiste più o meno nella stessa cosa che abbiamo detto per il pointillismo. Si tratta però di tocchi di pennello molto allungati, filamenti divisi di colori primari che vengono accostati e che quindi vengono fusi, diciamo, tra loro dalla retina, dall'osservazione, da una distanza abbastanza, diciamo, incospicua. Una sintesi molto efficace che attraverso queste linee lunghe filamentose da una vibrazione luministica, una sorta di movimento ancora forse più potente rispetto al pointillismo di Seurat, interessante anche perché almeno sul piano tecnico il futurismo prenderà le mosse proprio dal divisionismo. Il divisionismo però rispetto al pointillismo si caratterizza per una doppia vena espressiva e tematica perché da una parte si analizzano temi e soggetti tipici del realismo, quindi del verismo, ma soprattutto del realismo, quindi personaggi legati al mondo del lavoro, alle classi più popolari, dall'altra però abbiamo una serie di, un atteggiamento, diciamo, più idealistico, più metaforico, che è tipico invece del simbolismo, così come l'uso di una luce, che è una luce dorata, una luce allusiva, una luce spesso innaturale. Una sintesi fra questi due elementi che vediamo perfettamente in quello che è uno dei capolavori di Giovanni Segantini, Le due madri, in cui il soggetto, il tema della maternità, quindi una sorta di Madonna laica, viene ospitata all'interno di una stalla a fare un confronto fra appunto la Madonna, la Madonna e il bambino, e la vacca e il suo vitellino. Tra l'altro, insomma, Segantini, artista assolutamente interessante, analfabeta fino a oltre i 20 anni, poi all'opportunità di studiare a Brera, verrà a contatto con la scapigliatura e da qui rimane sempre e comunque questa grande sensibilità luministica, questa scelta di una luce così dorata, così avvolgente, e poi un'attenzione alla dolcezza che gli deriva dallo studio della storia dell'arte. Qui vi ho accostato da una parte appunto il particolare di Segantini, Segantini dall'altra, un particolare dal riposo della fuga in Egitto di Caravaggio. Nel 1891 quest'opera viene presentata e esposta alla Triennale di Milano insieme a un'altra opera che ha un soggetto simile, la Maternità di Gaetano Previati. Interessante constatare come gli artisti che fanno parte di questo gruppo, che non è un vero e proprio movimento, cioè non è un gruppo organico con un manifesto, ma diciamo sono artisti che si conoscono, si apprezzano, si aiutano fra loro, si dialogano, si condizionano a vicenda e quindi fanno una pittura che per certi tratti è assimilabile. Chi più orientato verso tematiche realiste, chi più orientato invece verso tematiche di tipo, verso modalità di tipo simbolista, come è il caso per esempio della Maternità di Previati, che come abbiamo detto viene presentata nella stessa occasione, nella stessa triennale delle due madri di Segantini. In questo caso noi abbiamo un soggetto religioso, ma anche l'intento di trasformare questo principio religioso in un messaggio universale. Quindi una sorta di modifica, di semplificazione dell'iconografia tradizionale, dove si vede questa Madonna laica perché non ha l'aureola vestita di azzurro, col velo bianco che è simbolo di purezza che sta allattando il bambino, circondata seduta in un prato e quindi circondata dagli anemoni viola, che all'unico dal martirio di Cristo, l'anemone è un fiore che una volta colto dura pochissimo, e dai gilli bianchi che sono simbolo di purezza. La Madonna è appoggiata a quest'albero carico di frutti che è simbolo di fertilità, ma soprattutto è circondata da angeli in preghiera, che sembrano fondersi nella natura attraverso questa complicatissima tessitura di filamenti allungati che rese molto complessa l'osservazione e la comprensione dell'opera dai contemporanei, infatti fu criticata fortemente, ma che evidentemente trasforma il dipinto in qualcosa di appunto molto simbolico, molto estetizzante. D'altra parte, Vittore Grubissi de Dragon, che era pittore, incisore, critico, mercante d'arte, insieme a Alberto de Grubissi, era il vero e proprio motore della pittura divisionista italiana, una sorta, diciamo, allo stesso ruolo che Diego Martelli ha per la pittura di macchia. Ecco, Vittore de Grubissi dice che Gaetano Previati fa una pittura di idee, cioè la sua è una ricerca appunto fortemente simbolica. I temi attuali di denuncia sociale, quindi il verismo, torna, d'altra parte, in maniera piuttosto corposa in altri artisti, per esempio, nell'opera di Angelo Morbelli, che rappresenta sempre figure legate alla sua terra, diciamo, la zona di Vercelli tra il Piemonte e la Lombardia, la zona delle Risaie, quindi Montadini, Le Mondine. In questo caso, nel dipinto che vedete alla vostra sinistra per 80 centesimi, ci sono proprio le Mondine che stanno lavorando nella Risaie, dove si vede un apprezzamento del tema della retorica del lavoro, che era comunque mancato nella prima fase del verismo che noi abbiamo fatto qualche lezione fa, però vediamo anche un collegamento abbastanza evidente con una ricerca di equilibrio, di classicità che si sposa perfettamente con l'esempio di Miglie, e quindi delle spigolatrici. Anche nel caso di per 80 centesimi, queste Mondine hanno una disposizione molto regolare, che corrisponde ai filari d'acqua della Risaie, che quindi richiama evidentemente una composizione ponderata e classica. E un'attenzione luministica, un'attenzione proprio all'uso della luce, del colore, dei riflessi, per esempio, che evidentemente non possono fare a meno dell'insegnamento, della ricerca della luce, che in Francia è tipica dell'impressionismo, ma che in Italia, per esempio qui siamo ancora nel nord Italia, è tipico della scapigliatura. Infine, ultimo artista che affrontiamo, Giuseppe Pellizza da Volpedo, in questo caso si torna appunto a un artista che proprio fonde insieme entrambi gli aspetti. Non sarà raro trovare in questi artisti una sorta di esaltazione apologetica degli ultimi, dei lavoratori, quindi temi sensibili al benessere, diciamo, collettivo, e l'unione di questa forte forma di realismo con il simbolismo. Pellizza da Volpedo è allievo di Hayez a Brera, poi diventa allievo di Fattori a Firenze, ma soprattutto nel 1994 entra in contatto con Segantini e stabilisce che Segantini è il suo vero maestro e quindi aderisce al divisionismo. Nel suo caso è un divisionismo fatto per elementi, per pennellate meno allungate, meno esasperate rispetto a Segantini e soprattutto a Previati, ma con una ricerca, con un'attenzione compositiva estrema, con un'attenzione alla luce degna dei più grandi ponti di vista, anche francesi, ma sempre con questo canale espressivo intermedio tra realismo e simbolismo. In particolare, ovviamente, ci occupiamo del quarto stato, che è una sorta di simbolo quintessenziale del movimento operaio, per tanti anni utilizzato, non so, per esempio come manifesto della CGL in Italia, perché chiaramente l'idea del proletariato che avanza fiero verso il sole, verso la luce dell'avvenire, abbandonando le tenebre, ha un valore simbolico potentissimo. Quindi un forte realismo perché sappiamo che Pellizza da Volpedo aveva fatto posare i suoi concittadini per questo dipinto, quindi anche tanti schizzi, tanti, diciamo, tanti buzzetti, con un procedimento molto simile a quello di Seurat, ma ha anche una fortissima tendenza simbolica con queste tre figure che sopravanzano rispetto alle altre, l'uomo più giovane al centro, l'uomo più anziano alle sue spalle, questa donna che fa questo gesto eloquente, come a chiamare il popolo a raccolta a seguirli, e questo popolo di lavoratori che dialoga, che parla, uomini e donne e bambini che parlano fra loro, ma che avanzano con sicurezza verso l'avvenire. Considerate che lo stesso Giuseppe Pellizza da Volpedo definisce l'opera l'avanzarsi animato di un gruppo di lavoratori verso la sorgente luminosa, simboleggiante nella mia mente tutta la grande famiglia dei figli del lavoro. Quindi l'idea è proprio un'idea di una fortissima simbologia. Tra l'altro noi possiamo vedere anche l'evoluzione, la modifica dell'approccio che si ha negli anni, perché questo è un dipinto fortemente meditato, per il quale appunto esistono più versioni. Ve ne metto due. La versione alla vostra sinistra si chiama Gli ambasciatori di fame, il dipinto del 95, dove si rappresenta proprio la cruda realtà della povertà, dove si spinge soprattutto sulla situazione di fatica, di fame della classe operaia. Mentre invece già nella fiumana del 98, che vedete alla vostra destra, la questione comincia a cambiare e il dipinto sfocerà appunto proprio nel quarto Stato, che torniamo a vedere del 901, dove c'è qualcosa di diverso, dove non c'è più il senso della fame e della disperazione, ma c'è il valore della forza del lavoro, della dignità, della consapevolezza del quarto Stato, del proletariato, che proprio per la loro consapevolezza diventa un avanzata inarrestabile. Quindi l'idea di allontanarsi dal buio dell'oppressione verso la luce dell'avvenire e della giustizia, che come abbiamo detto fanno di questo dipinto una sorta di simbolo assoluto del movimento operaio italiano. Ecco, la differenza appunto per quello che riguarda il neoimpressionismo tra la versione pointillist francese e la versione divisionista italiana, al di là della tecnica dei filamenti da una parte, dei punti dall'altra, sta proprio in questa scelta di rappresentazione di doppio canale italiano tra il realismo da una parte e il simbolismo dall'altra. Nelle prossime lezioni vedremo Cézanne, quindi un altro approccio altrettanto scientifico, ma di matrice completamente diversa a superare ancora una volta le indicazioni puramente impressioniste.